Quale contributo può dare la Federazione Cavaliere del Lavoro alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano? Può dare diversi contributi. Il primo fra tutti è quello di suggerire a chi si occupa di cultura in Italia un metodo di lavoro più efficace. Il problema della cultura in Italia è gestita in maniera molto complessa ed è gestita in maniera un po' caotica, iperburocratica, con snodi legislativi difficilmente superabili. Per cui il contributo che noi possiamo dare è dare l'esempio di come noi gestiamo le nostre aziende e quindi spingere la gestione della cultura sempre di più verso l'autonomia e la responsabilità. Ha già in mente un modello messo in pratica da poter prendere esempio? Esistono già dei modelli anche in Italia. Per esempio io presiedo un'istituzione culturale pubblica che si occupa di 13 musei civici nella città di Bologna che è assolutamente autonoma e sfrutta una legge del 1990 che dà autonomia attraverso la gestione di un consiglio di amministrazione e di un direttore scelto autonomamente che dà autonomia ad un gruppo di musei non indifferente.